Sì, pronta? Apulio Hotel, buongiorno, sono Luca. Sì, buongiorno. Chiamavo perché stavo guardando un po' le vostre strutture su internet. Ero interessata per un preventivo. Per la verità sono un po' indecisa, sa, con quello che si sente un po' in giro. No signora, con noi non deve avere questi dubbi perché noi vi offriamo gratuitamente la garanzia vacanza sicura. Voi una volta che confermate e lasciate la caparra, fino a 4 giorni prima potete modificare o addirittura facendo tutti gli scongiuri, cancellare la pronotazione, riavere indietro tutti i soldi, ma in ogni caso, anche se ci cancellate dopo i 4 giorni, comunque vi congeliamo la caparra e la potete utilizzare per una prossima pronotazione. Grazie, grazie, ottimo, grazie. Arrivederci signora, quando volete potete chiamarci. A presto.